80% di prugnolo gentile e il restante 20% cannaiello nero e mamolo. E il mamolo sarà un 5%. E quello che chiami colorino ci casca così dentro? Il colorino perché complessivamente io ho piantato, nei due filari più storici che hanno 80 anni, ci sono 3 o 4 litri di colorino, di quell'antico, che dice qual è la diversità, che quello fa anche la gradazione alcolica, nel senso ha degli zuccheri sufficienti per fare una certa gradazione. E quindi è importante conservarlo. E io ne ho fatto delle barbatelle e alcune sono un po' in giro qua, una quindicina di piante forse, e c'entrano un mese lì. Quell'unico filare è tutto colorino di quello storico, tanto per conservarlo. Poi siccome dice che il mio vino è un po' valido, chissà che con 100 viti di colorino aumenta un po' il colore. Tutto qui. Ma non è per... 100 viti su 4 vetri fa ride. No? Fa ride. Anche perché una vite di colorino mica lo fa anche l'uva. Se volti pagina, qui la vedi bene. Vieni. Questa è una vite. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci grappolini che pesano 50 grammi, un etto, forse, no, un etto no. E si vede, eh? Rosso sangue. E' anche buono. Senti. E' dolcissimo. Che macchia, però. E? Si macchia. Mi sentivo che è dolce? Allora io non volevo perdere. Ecco fatto. Piove. Devo andare a recuperare le casse, ragazzi. Allora io non volevo perdere. Come? Non volevo perdere.